Il coro Voci in Canto ha scelto la Pieve di Santa Maria ad Arezzo per festeggiare un importante traguardo, il suo decennale, un compleanno musicale festeggiato al fianco delle realtà artistiche del territorio, dall'Associazione Sbandieratori di Arezzo al Centro Danza Carolina Basagna e all'Associazione Erassena. L'evento ha visto una pieve di Santa Maria gremita di cittadini, centinaia infatti le persone che hanno assistito in piedi al concerto, pur di non perdersi i voli delle bandiere, la danza e tutta la vocalità del coro Voci in Canto. Ogni brano eseguito durante la serata è stato il simbolo di un capitolo fondamentale della storia del Voci in Canto, un racconto sonoro che ha saputo guidare passo dopo passo tutti gli ascoltatori. Per l'occasione il Voci in Canto è stato in formazione completa, voci bianche e giovanili accompagnato dalle voci mature dei cantori di vita dell'Associazione Voci in Canto. Grazie. 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 Per ballare a questo parco scenico era perfetto perché l'ha fatto molto bello e l'antiteatro è piaciuto parecchio. Ogni istante che è una città piccola a confronto di russi.